Ed ora un po' di nozioni storiche. La storia della Porsche inizia ufficialmente il 25 aprile del 1938 a Stoccarda, da parte del fondatore Ferdinand Porsche. Ben presto inizierà a fornire il proprio importante contributo anche il figlio Ferdinand Anton Porsche, detto Ferri. La prima vera automobile prodotta in serie dalla Porsche con il marchio Porsche... Andiamo a provarla e basta. POSCH PANAMERA 3000 Diesel TIP TRONIC 250 cavalli sotto il cofano. È inutile dirvi che è veramente full optional, invece voglio sottolineare la mia conoscenza diretta col precedente proprietario. È la presenza indispensabile di tutti gli italiani di Porsche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.